Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. È stata una notte di controlli nel centro storico Aretino da parte della Polizia di Stato. Passate a setaccio le zone della Movida. Controlli a tappeto da parte della Polizia di Stato la scorsa notte contro la Malamovida nelle zone calde del centro storico, quelle più frequentate dai giovani, da Corsa Italia a Piazza della Badia, da Piazza Sant'Agostino a Campo di Marte. Hanno partecipato al servizio che fa parte di una strategia di più ampio respiro condivisa in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per incrementare il livello di sicurezza nella città durante fine settimana anche degli equipaggi del reparto di prevenzione crimine di Firenze e della Polizia Municipale. Sono stati così controllati dieci esercizi pubblici frequentati in quel momento da 77 persone e 15 delle quali gravate da precedenti di polizia. Per i titolari dei locali dove sono stati identificati gli avventori con precedenti penali sarà avviato un procedimento amministrativo che, qualora venga accertato un concreto pericolo per la moralità e per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, andrà ad incidere sulla licenza dello stesso esercizio determinandone la sospensione oppure, nei casi più gravi, la revoca. Torniamo adesso a parlare degli attacchi dei lupi. Ieri sera la prima assemblea del Comitato. Problema lupo nella sala parrocchiale di Regutino, una delle zone maggiormente sotto assedio. Era giusto che la popolazione avesse contezza della situazione che stiamo vivendo con questo assalto che c'è quotidianamente da parte dei lupi. È stata una prima assemblea molto partecipata e decisamente animata, quella convocata nella sala parrocchiale di Regutino, siamo alle porte di Arezzo, da parte del Comitato Problema Lupo. Innumerevoli casi di segnalazioni da parte dei cittadini di avvistamenti o casi di predazione di poche ore prima il caso al Parco di Lignano. Sono più di 30 anni che ci sono quei recinti, mai assolutamente. Poi sono alti, sono recinti che non sono dell'accessibilità. Questi qui sono animali di 70, 60, 70 chili che vengono sbranati facilmente. Certo che c'è paura, perché io tra l'altro abito in campagna, qui all'ipendice del parco, se esco di sera, vado a chiudere le galline e un lupo è nelle vicinanze che faccio di notte, cioè non c'è più sicurezza. Alcuni momenti di tensione ci sono stati durante l'intervento estemporaneo di un esponente del Comitato Foresta. Foresta, allertata anche la Polizia Municipale, ma di certo problemi di ordine pubblico non ci sono stati. Nessun lupo ha mai predato umano, tantomeno bambini, quindi noi siamo a disposizione per essere consultati in qualsiasi momento per dare una consulenza se l'animale acquistato è un lupo, canis, oppure se è un cane, lupo, ciecoslovacco, come per esempio quello che ha predato le tre pecore dell'avvocato. Se fosse vero che sono animali ibridati, a questo punto se non sono lupi sono cani. È sufficiente catturarli, si mettono nei canili e si gestiscono. Il lupo nell'ultimo secolo non c'è mai stato, l'abbiamo quasi portato all'estinzione e dopo di che hanno deciso giustamente di proteggerlo, ma da allora non è stato controllato, siamo arrivati a 3.500, 4.000 lupi, non si sa, siamo fuori da ogni logica. Io posso parlare per la ZRV e la ZRC, che è zona di rispetto, di ripopolamento e cattura di Civitella e Monte San Savino. Si è iniziato con uno, poi la coppia, l'anno dopo sono diventati cinque, ora a Civitella sono otto, ma non Civitella tutto il comprensorio Civitella. Se dopo andiamo tra il Monte Civitella, nei boschi ce ne sono altri. Questi sono quelli che sono nati in pianura. I cittadini chiedono tutele alle istituzioni e dall'Assemblea è partita una petizione che finirà nel tavolo dei ministeri competenti. Sull'argomento sono intervenuti anche Serena Stefani e Massimiliano Dindalini, presidente e direttore di Cia Rezzo, che lanciano un appello alle istituzioni regionali e nazionali. Adesso hanno dichiarato che non è più una questione pesante e delicata per il mondo agricolo che da anni segnala l'aumento esponenziale del predatore, lamenta danni ingenti agli allevamenti. Adesso è la comunità ad avere paura e chiedere di affrontare la questione, perché il problema non è più solo economico, ma anche sociale. Ci spostiamo in Alta Valtiberina, Badia Tedalda, nei giorni scorsi. La morte dell'allevatrice cinquantenne stroncata da un malore dovuto probabilmente all'affreddo. La donna allevava cani che adesso cercano famiglia. Hanno subito trovato rifugio al canile di Badia Tedalda, dieci cani di razza Mirotic, di cui quattro cuccioli, ma adesso aspettano un'adozione sicura. Sono i cani di Cristina Gugu, l'allevatrice cinquantenne stroncata da un malore dovuto probabilmente al freddo e alla fatica, mentre a piedi stava tornando nella sua casetta di legno nell'oasi di Chiocciola, un bosco a cinque chilometri da Badia Tedalda, dove viveva e allevava gli esemplari. Il suo corpo era stato ritrovato solamente martedì, il giorno dopo il decesso, senza vita in mezzo alla neve, con le buste della spesa ancora in mano. Assieme a lei anche tre dei suoi cani, ormai senza vita anche loro. Una storia che ha commosso tutti. Cristina ricorda il sindaco di Badia Tedalda, era arrivata in Italia alcuni anni fa. Aveva deciso di vivere nella casetta di legno nell'oasi e di far crescere lì i suoi cani. L'amministrazione comunale negli anni si era spesa per trovarle una sistemazione migliore, ma ancora non era stata individuata un'altra soluzione. Ed adesso è il drammatico epilogo, ma ora c'è anche un'altra emergenza, trovare una famiglia ai cani rimasti soli. Si tratta di esemplari di taglia grande e robusta, utilizzata per la guardia del bestiame dal carattere leale. La linea ferroviaria Aretina è stata al centro della riunione della cabina di regia istituita dall'assessorato regionale ai trasporti che si è svolta ieri. L'intera seduta, a cui hanno partecipato anche i sindaci del Valdarno, è stata dedicata a questo tratto di linea. L'assessore Baccelli ha annunciato un prossimo incontro con i comitati dei pendolari, quello del Valdarno, di Arezzo e della Valdichiana. La tratta Aretina infatti si conferma una linea problematica, va detto, spiega Baccelli, che si tratta di un sistema particolarmente complesso, dipendente da eventi anche molto lontani dalla Toscana e difficilmente governabili dalla regione. Per i treni più critici, costantemente monitorati, sono comunque in corso approfondimenti per individuare assieme ai gestori modifiche alla programmazione che possono migliorare realmente la puntualità. Voltiamo pagina per parlare di sanità. Ancora una giornata di formazione al Centro Chirurgico Toscano. Ancora una giornata di formazione al Centro Chirurgico Toscano, nel workshop organizzato nella giornata di oggi, si è parlato di tendini e loro patologie. Sì, i tendini sono indubbiamente uno degli anelli deboli del nostro organismo. Ho cercato di organizzare una giornata nella quale ho voluto mettere a confronto vari specialisti, non soltanto della chirurgia ortopedice, ma anche della parte riabilitativa e della parte internistica. Quindi un quadro a 360 gradi è un problema veramente importante. Purtroppo la limitazione funzionale è estremamente invalidante, perché finché le articolazioni si muovono in maniera fluida, in maniera adeguata, le persone non si accorgono di averle. Quando poi l'ingranaggio non funziona come dovrebbe, è lì che le persone si rivolgono al medico e diventa invalidante, perché non si riesce più a compiere le attività quotidiane, anche quelle più semplici. Perché in alcune persone, per motivi di predisposizione genetica, a contatto con stimoli ambientali, che possono essere anche quelli di una normale vita quotidiana, lo stress, alterazioni della biomeccanica, alterazioni funzionali, delle strutture articolari, nonché agenti batterici e infezioni intercorrenti, possono crearsi dei blackout, degli squilibri immunomediati, che causano poi un'infiammazione difficile da risolversi senza delle adeguate terapie. Ci vuole anche l'intervento in alcuni casi? Gli interventi sono necessari, soprattutto nelle patologie datate, e come dicevo, è importante la collaborazione con l'ortopedico, poiché le alterazioni biomeccaniche tendono a sostenere l'infiammazione. Grazie. Buongiorno. Una nuova donazione alla Calcit, una panda che sarà utilizzata per il servizio scudo. Vediamo il servizio. Un nuovo mezzo donato al Calcit, consegnato nel corso di una cerimonia ospitata in piazza Sai Jacopo. Si tratta di una Fiat Panda che verrà utilizzata per il progetto scudo di assistenza a cure domiciliari. La donazione è avvenuta da parte dell'Associazione Provinciale Auto e Motostoriche Città di Arezzo e CNA. In questo caso il mezzo è il quinto che la città ha donato, aziende e singoli privati, grazie al lavoro anche della CNA Social Net che ha organizzato questo raduno provinciale di auto e moto d'epoca. e in questo momento mettere in risalto questo servizio che è ben apprezzato dai cittadini, che interviene in un momento delicato per la famiglia, mi sembra anche giusto sottolinearlo e farlo pubblicamente sapere. È un servizio molto delicato, molto vicino alle famiglie, che ha bisogno di sostegni e di servizi adeguati. Ne ha una testimonianza quest'auto. Quest'auto è il risultato di una rete di volontariato che è sempre molto attiva in questo territorio, quindi è una grande ricchezza. Siamo qui a testimoniare la vicinanza a chi soffre, alle famiglie, con questa iniziativa che è importante questa consegna di quest'auto anche di primo livello e è il risultato appunto di dieci anni di raduni di auto e moto storiche che noi facciamo con grande successo e che hanno questo risvolto di solidarietà che ci inorgoglisce. E quindi oggi è un momento importante la consegna di quest'auto al Calcit, che è sempre il nostro partner ormai da dieci anni. Il gruppo locale Etruria, che fa parte dell'Associazione Nazionale Fare Verde, riconosciuta dal Ministero per l'Ambiente, continua il suo impegno in favore della riqualificazione urbana delle città attraverso cure e valorizzazione del verde pubblico. Questa mattina il progetto di piantumazione di tre tigli sugli spazi adibiti nei viali. ci troviamo a Camuciglia, un progetto sulla scia di quanto già fatto nell'ottobre 2022 assieme ad altre associazioni del territorio che si è svolto con la volontà di abbassare ulteriormente la CO2 dovuta allo smog cittadino e incrementare così il verde pubblico. Cambiamo argomento, emozioni e storie raccontate attraverso i brani musicali della 900, lunedì 30 gennaio alle 21 nella chiesa di Santa Maria della Pieve, la seconda edizione del concerto Insieme Per, che proporrà un percorso artistico tra musiche e parole come strumento per riflettere su diverse situazioni della vita dell'uomo. L'iniziativa, promossa da Misericordia e Acli, assieme all'Associazione Diabetici Aretini, ha ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti e troverà il cuore nell'avvariegato repertorio proposto dalla banda Medici e Musica. È proprio delle Acli una delle iniziative che si è svolta ieri nella giornata della memoria che ha portato il racconto della Shoah al cinema. La memoria, lo dice la parola stessa, è per ripercorrere dei percorsi della storia e ricordarli a chi o non li ha vissuti o a chi non li vuole ricordare. La Shoah è raccontata attraverso il cinema. In occasione della giornata della memoria, il Cinema Eden ha ospitato la proiezione del film Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma, con la presenza in sala del regista Giulio Base nel corso di un'iniziativa promossa dalle Acli dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra da Cisle e MCL. Il giorno della memoria è il tema appunto della Shoah, qualcosa che rimane nella pelle del nostro popolo e di tutto il mondo. Quindi è bene che i giovani sappiano quello che è successo e lo portino avanti questo pensiero, soprattutto perché per la pace nel mondo serve riscoprire appunto l'attenzione a quello che è stata la nostra storia e gli sbagli del passato. Presentato in anteprima alla quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma e poi trasmesso su Rai 1, Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma restituisce la drammaticità della storia attraverso un viaggio introspettivo nella coscienza di un gruppo di adolescenti ebrei e cristiani. Sara, da quando l'ho vista in questa foto trovata in soffitta mi sono chiesta spesso perché io? Perché era lì ad aspettare proprio me, chiusa in una varie da decenni, da quando neanche voi eravate noti. Perché? E mentre Sara continuava a tenermi per mano mi sono resa conto che a me perché non ha senso. Perché verrà da sé. Una scolaresca di ragazzi, liceali, che trova una lettera di una certa Sara Cohen, cominciano a informarsi di cercare dove trovarla e non trovandola si mettono all'opera. Questa è la cosa che ci piace di più di questo film. C'è dei giovani che si mettono all'opera, non si mettono così in maniera supina ad accogliere la storia, ma attraverso un testo teatrale, quindi una scrittura, quindi una messa in scena, quindi dipinti, qualcuno fa il regista, eccetera, per mettere in scena questo dramma e rincorrere questa Sara Cohen. Quindi è sostanzialmente la show a vista attraverso gli occhi dei giovani. Passiamo alla pagina dello sport. Domani prima partita ufficiale della storia per l'Arezzo a Terra Nuova. Bracciolini di Amaranto arrivano da capolista del campionato, accompagnati e sostenuti da 450 tifosi che occuperanno tutta la tribuna dello stadio Matteini di Terra Nuova. Bracciolini, dunque, sarà una sfida tra la prima e l'ultima del campionato con tutte le insidie che questo match può riservare, come ha detto questa mattina il mister. Sentiamolo. Nell'allenamento della squadra sembra un buonissimo attaccante. No, ma è un buonissimo attaccante, non sembra. No, è un buonissimo attaccante. Siamo contenti di averlo. La tentazione c'è. Quando è a disposizione un buonissimo attaccante per forza c'è la tentazione. È chiaro che come abbiamo giocato fino adesso, cioè con il sistema di gioco abbiamo giocato fino adesso, bisogna cambiarlo per far giocare lui insieme all'altro centroavanti. E' quello che dicevamo giorni fa, no? Tempo fa, dicevamo che anche la sua assenza, tra l'altro, oltre essendo un'Ande, la sua assenza, ecco, qualcosa sicuramente ci ha tolto, perché vedendo la facilità realizzativa, cinque gol senza praticamente giocare, se avesse avuto continuità di prestazione, forse era anche un doppia cifra di già e conseguentemente noi avevamo qualche punto più classico. e poi c'è un Dio, è sbagliato, lo sai, lui è il primo a sapere, è scusato. Succede, non è successo solo nell'Arezzo, succede anche a livello più importante. Succede, bisogna andare avanti, il ragazzo ha capito, pagherà le conseguenze e aspettiamolo perché ci possa realizzare qualcosa, dicevo io, e vediamo se questi due punti o la San Giovannese, magari lui ci ha messo qualcosa negativo, li rende ininfluenti alla lunga, redandoci qualcosa in positivo. Ma tutte le difficoltà come, non lo ritengo inferiore alle squadre che abbiamo giocato ultimamente, assolutamente, abbiamo visto anche la partita a Livorno, ha aperto 2-0 ma è stato in gara sempre, praticamente alla pari, ha avuto occasione del gol. E come le altre, come le altre, sicuramente avranno dei problemi, io non lo so perché a qualche punto o meno ma mi rifiuto di pensare, avendo la vista che è inferiore a Orvietana e tutte le altre. È un campionato che differenzia rispetto all'anno scorso, mi piacevo proprio questo paragone, l'anno scorso l'ultima 6-7 c'era la differenza avvissale, quest'anno non mi sembra proprio, non mi sembra proprio, quest'anno è un campionato equilibratissimo ma anche con l'ultima, anche noi siamo primi ma con l'ultima bisogna, tutt'ora devi guadagnare la vittoria, non viene scontata perché c'è tanta differenza. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.